carissimi amici buongiorno dovete sapere che questa mattina io e otto siamo ispirati quindi abbiamo deciso di fare un quadro con i nostri fiori che abbiamo raccolto nel nostro giardino eccolo qua ho preso una vecchia cornice di un quadro che avevo in casa ed ho applicato due muskinet come potete vedere sul mio banco di lavoro ho disposto tutti i fiori e le foglie che ho raccolto nel mio giardino questa mattina delle rose dei fiori di geranio della lavanda delle foglie di fico dell'edera altra edera e altre foglie quindi andrò a realizzare due piccole composizioni ai lati di questa cornice facciamo una base verde andiamo a mettere del colore quindi dei fiori questi sono dei gerani o della lavanda mettiamo dell'edera delle roselline bianche un fiore di oleandro il della clematis cerchiamo di coprire tutta la spugna per non farla vedere ovviamente abbiamo anche dei fiori di ispirea e uso anche dei rametti puliamo bene il banco di lavoro ed ecco a voi il quadro finito 8 cosa ne pensi ti piace certo e voilà l'opera è completa